Sino a circa 25 anni fa erano considerati i fiori all'occhiello della città di Trani. Parliamo delle due ex-municipalizzate, Amet e Amio, che rappresentavano un po' il simbolo della capacità manageriale e della lungimiranza della classe politica tranese. Poi il lento, inesorabile declino, dovuto sia a fattori esterni che a fattori interni. I fattori esterni possiamo ricordare, per esempio, l'emergenza rifiuti in tutta la regione Puglia, per quanto riguarda Amio, o la progressiva liberalizzazione dell'energia elettrica, per quanto riguarda Amet. Ora, naturalmente, la sfida che ha l'amministrazione Bottaro è quella di salvare questo patrimonio, rilanciarlo, possibilmente. Una sfida complicata, ma che, se dovesse fallire, porterà inevitabilmente a perdere questo immenso patrimonio di know-how, acquisito in oltre 100 anni, come nel caso di Amet. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con Diritto e Rovescio, la nostra rubrica di approfondimento. Trentatreesima puntata del nostro sedicesimo anno di trasmissioni. Oggi cercheremo di concentrare la nostra attenzione proprio sulle due ex-municipalizzate, oggi, SPA, Amet e Amiu di Trani. Lo facciamo, e siamo particolarmente lieti, con i protagonisti di questa avventura, perché per la prima volta in uno studio televisivo insieme ci sono raggruppati i tre vertici del Comune e ringraziamo il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, grazie per essere con noi. A voi ben trovato. Ringrazio l'amministratore unico di Amiu SPA, l'ingegnere Alessandro Guadagnolo, grazie per essere con noi. Ringrazio e saluto Antonio Mazzilli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amet SPA Trani. Grazie a voi, buonasera. Grazie per essere con noi, ringrazio particolarmente il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, perché è facile metterci la faccia quando le cose vanno benissimo e bisogna prendersi semplicemente gli applausi. Molto più complicato è farlo quando c'è da rischiare, quando c'è da metterci la faccia davvero per una situazione complicata. Innanzitutto, Sindaco, ma lei è d'accordo con l'analisi fatta nell'introduzione? Sì, sono assolutamente d'accordo. È chiaramente un'analisi che andrebbe fatta anche chiaramente in maniera molto più analitica. Credo che il declino sia dovuto a fattori interni ed esterni, quindi la condivido pienamente. È un declino dovuto sicuramente anche al contesto completamente diverso in cui oggi ci troviamo. In passato le aziende erano il fiore all'occhiello anche perché, lasciatemelo dire, venivano ben finanziate dall'amministrazione comunale dai bilanci quindi del Comune di Trani che erano bilanci che si reggevano sui contributi pubblici quasi all'80%, per cui è chiaro che erano bilanci molto più solidi di quelli di oggi. Da qualche anno, oramai non è più così, sappiamo benissimo che il bilancio comunale si sostiene per l'80% invece dalla tassazione dei cittadini e non più dei contributi dello Stato. Questo che cosa significa? Una cosa molto banale. Siamo in difficoltà, lo siamo seriamente e abbiamo anche in parte messo in difficoltà le nostre aziende che sono... Ecco, Sindaco, questo aspetto è particolarmente importante e interessante perché è proprio questo, a lei ha centrato esattamente il punto di non ritorno. Cioè quando Amet e Amiu prendevano soldi dal comune, poi improvvisamente invece hanno dato soldi al comune. Cioè si è invertito, il comune invece di finanziare, diciamo, rimpinguare le casse dei due enti per fare le attività che erano proprie, in realtà ha utilizzato parte di queste risorse. Qui c'è esattamente il cortocircuito di cui lei parlava, direttore, nel senso che di fatto fino a quando il comune ha finanziato le due aziende e le due aziende hanno ben lavorato. Nel momento in cui si è creato il fenomeno inverso che è un fenomeno stabilito poi del resto non soltanto dalla situazione economica del comune ma anche dal legislatore che ha chiaramente detto come queste società si debbano autofinanziare, sono società per azioni, devono saper stare sul mercato da sole al contrario devono rappresentare un beneficio per l'amministrazione comunale quindi società da cui prendere gli utili da dividere quindi praticamente quindi da prendere lì sono cominciati a nascere i problemi perché era un'inversione di rotta per le quali secondo me la politica ma anche le strutture tecniche di entrambe le aziende non erano pronte. A peggiorare la situazione per Amiu c'è stata la discarica ricordo a tutti è stato il grande salvadanaio da cui attingeva innanzitutto il comune e anche diciamo per un ridurre evidentemente la tassazione sui cittadini quindi i cittadini pagavano ben poco come tari e quindi tra virgolette anche le pretese del cittadino sono sempre state molto più basse. Oggi con la chiusura della discarica si è creato un altro cortocircuito dove chiaramente sono emersi tutti quei problemi che negli anni diciamo un po' abbiamo nascosto quindi la politica è riuscita ben a nascondere ma la stessa azienda è riuscita ben a nascondere chiaramente quindi invece c'è stata la seconda arriva nel momento in cui i nodi vengono al prendere assolutamente ecco allora in via preliminare io vorrei capire da entrambi gli amministratori delle due società qual è lo stato in cui avete trovato l'azienda nel momento in cui vi siete insediati ricordo che l'ingegnere Guadagnolo si è insediato un po' prima rispetto ad Antonio Mazzilli che si è insediato soltanto credo a novembre dello scorso anno per cui cominciamo con la situazione forse più critica quando l'ha trovata mentre quella più critica per il futuro è quella di Amet certo allora intanto c'è stata una una serie di vicende che hanno caratterizzato la prima parte del mandato del mio mandato quindi sono entrato con una discarica chiusa di fatto all'esercizio quindi il sequestro è avvenuto dopo quindi con una discarica comunque sospesa l'esercizio quindi sospensione dell'esercizio della discarica poi successivamente sequestro revoca dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente all'esercizio e poi da lì tutto quello che diciamo ha in qualche modo poi guidato quella che è stata la la storia della discarica quindi la storia recente della discarica quindi le due diciamo i due filoni quindi piano di caratterizzazione quindi bonifica e dall'altro gestione comunque di una discarica gestione di una discarica chiusa quindi messa in sicurezza ed altro questo per quanto riguarda la discarica per quanto riguarda invece il servizio anche qui il servizio come dire era sicuramente abbastanza un po' confuso più che abbastanza un po' confuso mancava il contratto di servizio c'era un contratto c'era comunque un contratto di servizio che era stato sottoscritto ad ottobre del 2014 se non ricordo male però a posteriori che portava comunque delle delle situazioni particolari ad esempio dalla a fronte di quello che era normalmente avrebbe dovuto pagare il comune di Trani per i conferimenti dei rifiuti prodotti presso la discarica quindi circa dal 1 gennaio 2014 al 4 settembre 2014 data di diciamo ultimo conferimento dei rifiuti in discarica avrebbe dovuto pagare 930 mila euro circa in contratto c'erano 408 mila euro vado a memoria un po' con i numeri però ecco questo diciamo è rappresentativo un po' l'idea è rappresentativo un po' ecco in questa sede non interessa lo diremo più volte non ci interessa l'aspetto dell'inchiesta dell'accertamento delle responsabilità perché è una cosa che se la vedrà poi la magistratura daremo conto naturalmente quando ci saranno dei provvedimenti però la cosa che interessa ai cittadini tranesi è sapere se la discarica in questo momento è davvero sicura nel senso che ogni mese leggiamo una sorta di borsa sugli indicatori manganese zinco i componenti ferrosi che finiscono in falda qual è la situazione reale ad oggi? Allora noi stiamo procedendo oggi grazie all'ordinanza emanata dal sindaco del comune di Trani dell'avvocato Bottaro stiamo procedendo alle operazioni messe in sicurezza e la discarica che riguardano la copertura dei trellotti quindi il il cosiddetto camping di fatto nella sostanza diciamo le opere sono uguali messe in sicurezza di emergenza e camping provvisorio diciamo sono sinonimi nel fatto nelle opere però parliamo di messa in sicurezza di emergenza perché questo è quello che è stato ordinato dal sindaco e con relativa sistemazione idraulica per la raccolta delle acque e il trattamento delle acque sul capping che vengono vengono chiaramente recapitate sul capping e completamento e manutenzioni straordinarie anche all'impiantistica della discarica quindi parliamo del biogas parliamo del percolato questa è la situazione e sono i lavori che si stanno facendo sicuramente c'è stato un po' diciamo la norma nazionale la normativa nazionale il codice dei contratti pubblici ha complicato un po' la situazione perché avevamo già un progetto definitivo che era stato anche presentato in regione e se non fosse cambiata la normativa magari avremmo potuto accelerare con un appalto integrato invece adesso stiamo procedendo con le progettazioni esecutive di una parte però relativamente alla copertura del terzo lotto e all'impiantistica connessa quindi con progettazione esecutiva poi successivamente l'appalto dei lavori i cittadini possono stare tranquilli in questo momento la tranquillità noi riusciremo ad averla nel momento in cui avremo le risultanze del piano di caratterizzazione che dovrà essere comunque eseguito a breve il perfetto torneremo su questo argomento invece qual è la situazione di AMET quando è entrato allora io sono sono entrato in AMET il fine novembre sì 16 novembre 23 novembre quindi praticamente l'ultimo mese di gestione del 2016 in questo in questo anno 2016 dove erano stati tra l'altro già nominati Marcello Danisi e Angela Ventura nel consiglio di amministrazione praticamente si era svolta un'attività di messa in sicurezza dell'azienda messa in sicurezza che poi diciamo abbiamo accelerato in questi primi mesi del 2017 la situazione ora è in una fase di piena progettazione infatti il sindaco in qualità di socio unico nell'assemblea svolta pochi giorni fa ci ha dato come atto di indirizzo il rilancio dell'azienda rilancio dell'azienda che si è già manifestata con l'acquisizione del nuovo software aziendale che ci permette di dare delle molteplici risposte a quello che è l'acquirente unico il mercato dell'energia che diciamo è il core business dell'azienda è un mercato particolare esce praticamente una normativa ogni due o tre giorni e quindi bisogna avere anche i mezzi tecnici per poter soddisfare quelle che sono le richieste che vanno dalla singola trasmissione dei dati alla fatturazione a diciamo a tutto quello che è l'operatività tecnica dell'azienda e quindi diciamo che è stata fatta un'operazione di messa in sicurezza con poi abbiamo visto con un utile di bilancio di circa 110 mila euro ed è stata anche intrapresa una forte iniziativa nei confronti di quelli che sono stati i crediti che l'azienda è sicuramente un capitolo che affronteremo che l'azienda è messa in sicurezza sentivamo sia per quanto riguarda la discarica sia per quanto riguarda più in generale l'AMET lei oltre ad essere il sindaco della città è anche ovviamente il socio unico di entrambe le due partecipate quali sono le indicazioni che lei ha dato ai due amministratori più in generale alle due aziende cioè in particolare per l'AMIU c'è sicuramente il bubone di scarica cioè da immaginare un futuro perché al di là della cronaca dell'oggi che ci interessa sicuramente per mettere per far capire i cittadini che non corrono pericoli sia per l'AMET che per l'AMIU ma quello che ci interessa capire quest'oggi è in prospettiva domani queste due aziende saranno ancora è possibile ancora tornare a considerarle dei fiori all'occhiello per la città ecco quali sono le indicazioni che lei pensa di dare allora la prima cosa di cui io mi sono preoccupato è la messa in sicurezza di entrambe le aziende dal punto di vista anche economico finanziario non c'è il rilancio di un'azienda che non passi chiaramente dalla messa in sicurezza dei conti avendo ereditato una situazione drammatica nel comune ricordo a tutti eravamo quasi in predisesto il commissario prefettizio avrebbe voluto dichiarare il predisesto lo avrebbero voluto fare anche alcuni miei competitor nella mia fase elettorale è evidente che la situazione era ed è ancora in parte preoccupante per cui mi sono diciamo così preoccupato di questo tant'è vero che anche la nomina ad esempio dell'amministratore delegato di AMET SPA è una nomina che andava e va soprattutto in quella direzione e cioè praticamente un tecnico che vada a lavorare sui conti dell'azienda per cercare appunto di metterla in sicurezza in AMIU abbiamo ricapitalizzato l'azienda quindi è stata la prima grande operazione la prima operazione più complicata che ha significato effettivamente avere di nuovo un'azienda perché di fatto con il mio insediamento AMIU non esisteva di fatto era una azienda oramai chiusa a tutti gli effetti è chiaro che ora siamo iniziando una seconda fase che devo dire è più veloce con AMIU perché la ricapitalizzazione ha reso l'azienda molto più solida dal punto di vista economico finanziario ma è una solidità che fine a se stessa se non pensiamo al suo sviluppo io ritengo che AMIU non possa essere un'azienda che si debba limitare a fare un servizio di raccolta e spazzamento in città non lo è mai stata anche perché all'interno del bacino ci sarebbe poi da fare l'appalto unico e quindi di fatto perderebbe la sua capacità è un'azienda abituata che ha nel suo DNA nel suo core business quello di gestire impianti ed è quello che deve continuare a fare ma che tipo di impianti bene questo chiaramente lo dobbiamo decidere a livello regionale perché la programmazione la fa la regione quindi non posso essere io a stabilire quegli impianti è chiaro che io sono nel parere che dobbiamo praticamente andare verso un certo tipo di impiantistica che è l'impiantistica che mira ad esempio al trattamento di rifiuti nel senso che verso soprattutto all'interno di una provincia come la BAT che differenzia tantissimo e quindi probabilmente dobbiamo andare a trattare i rifiuti per sfruttare la differenziata e quindi il problema potrebbe essere quello dell'umido quindi compostaggio il problema potrebbe essere quello del trattamento di rifiuti quindi praticamente da riciclare quindi tutti impianti diciamo che volti a quindi favorire una riduzione quindi del rifiuto in discarica e quindi l'idea dell'amministrazione è questa ma questa ecco l'idea dell'amministrazione con riferimento agli impianti quello che è importante è parlare dell'azienda bene per me l'idea forte è che l'azienda deve tornare a gestire impianti che significa che dobbiamo pensare di sfruttare l'amio per la gestione di questi impianti che vanno localizzati probabilmente anche sul nostro territorio in una parte ce l'abbiamo di fatto la zona della ex ricicleria l'abbiamo di fatto trasferita ad amio proprio perché amio la può meglio sfruttare per la realizzazione degli impianti e devo dire che in tutta la BAT rappresentiamo in questo un unicum perché sarà pur vero che oltre ad amio come azienda pubblica del settore c'è la Barsa ma io ritengo che noi siamo non uno ma ben due passi in avanti rispetto a Barsa per due motivi il primo noi abbiamo un'azienda che abbiamo appena risanato con una ricapitalizzazione importante per cui la nostra azienda è stata monitorata da revisori certificatori esperti contabili cioè realmente vorrei vedere se ciò accadesse in Barsa non perché io dubiti di Barsa ma perché le società pubbliche si trovano tutti in una situazione un po' precaria la nostra è stata non monitorata ma centrifugata diciamo così quindi detto onestamente oggi io mi posso presentare sul mercato con un'azienda che ha i suoi conti a posto realmente seconda cosa ancora più importante noi non l'abbiamo tra virgolette compromessa trasformandola in una multi utility che fa servizi di tutti i tipi tra il verde la segnaletica la com'era in passato perché io ritengo molto che la specializzazione in tutta la vita in tutte le cose della vita non fa altro che farti emergere dunque AMIU è l'azienda di rifiuti e quella deve rimanere deve lo ha fatto per tanti anni deve fare questo Barsa è già rispetto ad AMIU molto più un carrozzone perché si porta servizi collaterali che dovranno essere probabilmente scissi dovranno essere quindi l'idea su AMIU e l'idea forte è questa su AMET prima di arrivare ad AMET proprio l'idea dell'impiantistica AMIU c'era chi sosteneva che bisognasse dividere la proprietà delle strutture dalla gestione delle strutture lei è d'accordo su questa visione innanzitutto partiamo da questo allora a me quello che è importante fare stiamo facendo è dividere la proprietà barra gestione delle strutture dal servizio di raccolta perché devono essere due società diverse necessariamente perché è evidente una cosa che se facciamo come stiamo facendo il gestore unico nel servizio però di raccolta io devo mantenere il mio core business che è solo mio e che in questo momento non condivido con nessuno nell'impiantistica la proprietà o gestione dell'impianto cambia poco perché in termini di responsabilità il gestore è responsabile quanto al proprietario quindi se serve questo per assolutamente dare maggiore forza all'azienda che sarà chiamata a gestirla io chiaramente darei la proprietà anche a chi la gestisce il problema potrebbe essere di natura diversa e cioè finanziario nel senso che se l'amio è in grado da sola di finanziarsi un'operazione di questo tipo che ben venga se c'è bisogno di invece partner è chiaro che in quel caso si apre un ci possiamo aprire anche a partner anche privati perché quello che mi interesserà in quel caso è la gestione pubblica dell'impianto che poi l'impianto possesse di proprietà anche privata non mi strappere le vesti perché sui rifiuti ritengo che la parte importante sia che la gestione sia pubblica perfetto ecco ma in tutto questo la parola discarica che fine fa? bene su questo dobbiamo aprire chiaramente un dibattito che sto per aprire è imminente siamo praticamente di fronte ad una scelta importante perché dobbiamo spiegare innanzitutto alla regione che cosa vogliamo fare se riparlare di discarica a trani o se non parlarne più definitivamente allora partiamo innanzitutto da un dato la discarica esistente quindi tre lotti funzionali stiamo parlando di una cosa vecchia chiusa ed è chiuso giusto? giusto quindi quella non si riapre non si può riaprire assolutamente non ci sono le condizioni per poterla riaprire invece invece alcuni parlano di lotti bis in realtà stiamo parlando di una nuova discarica si tratta di comprendere se in un sito che oramai è compromesso ci sono ammesso che ci siano le condizioni è evidente si può si voglia riaprire alcuni lo chiamano lotto bis ma si confonde se si parla di lotto bis perché sembra quasi che stiamo parlando della vecchia discarica anche perché spieghiamo ai cittadini magari lo facciamo spiegare all'amministratore la discarica di trani è all'interno di un ex cava che è di una dimensione X per la metà attualmente è impiegata dalla discarica attuale quindi ci sarebbe eventualmente uno spazio per fare una cosa completamente diversa da un'altra parte all'interno di questo stesso sito dico bene? assolutamente ecco sì quindi ecco perché io parlo di una nuova discarica che è nulla a che vedere con la vecchia si tratta di decidere se vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a ieri ma lasciatemelo dire in maniera completamente diversa sia in fase di realizzazione che in fase di gestione della discarica lasciatemelo dire anche questo affidandoci nella fase soprattutto di realizzazione a tecnici non a uno ma bensì a un gruppo di tecnici esperti che selezionati con procedura di evidenza pubblica che ci dicano in realtà come si realizza una discarica totalmente sicura assumendosi nelle responsabilità in fase di costruzione innanzitutto e poi si gestisca con tecnici esperti anche nella fase di manutenzione e io su questo mi sento tranquillo nel senso che è già in questa fase che noi stiamo operando nella fase di bonifica figuriamoci nella fase di realizzazione di una nuova discarica ma chi glielo dice i cittadini? bene dobbiamo decidere il Consiglio Comunale è questa la vera decisione che va presa perché bisogna dire che se non dobbiamo essere più una discarica diciamocelo tutti l'Atari potrà oscillare di poco ma la Regione ci continuerà a mandare a fare i viaggi del destino perché City non ce ne sono se invece pensiamo ad una possibile riapertura della discarica è chiaro che evidente che il futuro dal punto di vista anche della tassazione del cittadino sarà ben diverso questa è una decisione politica che dovrà prendere il Consiglio Comunale con molta chiarezza senza paventare gravi rischi ambientali o piuttosto della vecchia discarica o piuttosto affari per i cittadini nel non pagare l'Atari bisogna essere molto equilibrati in questo e prendere delle decisioni io proprio per questo mi rivolgo all'ingegnere al responsabile dell'azienda tranese che si occupa di questo perché lei ha anche la fortuna di non essere tranese in questo caso è una fortuna perché mi posso permettere di fare questa domanda lei a casa sua farebbe un'altra discarica sì l'azienda Amio è sempre stata pubblica al 100% quindi il sindaco dice però non facciamo gli errori del passato l'importante è che sia pubblico gestita da persone capaci quindi significa che l'Amio non è stata in grado? no non entro preferisco non entrare nel merito non è corretto entrare nel merito anche perché comunque ci sono delle indagini in corso quindi è bene diciamo lasciare alla magistratura ovviamente accertare eventuali responsabilità non era questo il senso no 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 ma assolutamente anche in termini di gestione anche in termini di gestione della discarica perché poi tutto gestione e costruzione e gestione della discarica le pongo la domanda diversamente cosa possiamo dire ai cittadini per far capire che nel futuro si possono evitare tranquillamente gli errori che hanno portato alla situazione attuale perché se fosse stato gestito tutto perfettamente non soltanto dai gestori Amio ma anche dalla regione Puglia che non può lavarsi le mani della situazione di Trani perché se a Trani dovevano andare 40 tonnellate al giorno e ne sono arrivate per due anni e mezzo 400 o addirittura 800 tonnellate al giorno qualche problema la regione lo ha creato certo la discarica la gestione della discarica quindi questa nuova discarica ha un senso e su questo ci siamo confrontati diverse volte anche con gli amministratori può avere un senso solo ed esclusivamente se effettivamente è il termine di vita del rifiuto che non può essere altrimenti recuperato quindi perché esista una discarica su Trani secondo me è necessario che vi sia dell'impiantistica a monte senza impiantistica io mi sento di sconsigliare in quanto l'amministratore della società mi sento di sconsigliare qualsiasi riapertura di discarica questo va sottolineato perché per un motivo molto importante mi consenta perché è importante quello che sta dicendo l'impiantistica da una parte il fine vita del rifiuto dall'altra significa che bisogna farla differenziata cioè ho omesso di dire perché chiaramente parlavamo di differenziata ma perché volevo essere molto chiaro è chiaro che io una discarica così siccate sempliciter non la riaprirò mai il mio parere sarà non porto neanche il provvedimento in consiglio comunale questo sia chiaro nel senso che sono talmente contrario mentre su una decisione che appunto adesso mi appresto a chiarire mi rimetto alla volontà dell'intero consiglio comunale invece su una una riapertura della discarica sono contrarissimo non lo farò mai diverso è pensare alla realizzazione di impianti che vanno verso quindi assolutamente alla riduzione della produzione anche del rifiuto finale che va in discarica ma che sono impianti che richiedono delle discariche di servizio cioè delle piccole discariche che in un certo qual modo prendono gli scarti della lavorazione perché è chiaro che nel momento in cui ho tratto il rifiuto che già mi proviene dalla differenziata è evidente che creerò sempre una parte di rifiuto indifferenziato che deve andare in discarica allora queste condizioni sì c'è con un impianto è una discarica di servizio a quell'impianto io posso riaprire una discarica di dimensioni quindi completamente diverse a servizio di un impianto e a servizio soprattutto di una città e di un territorio la BAT in cui si differenzi tant'è vero non di più uno o più regioni assolutamente altrimenti io non sono la proposta ecco che porterei al tavolo alla discussione del Consiglio sarebbe solo ed esclusivamente questa priorità assoluta partire nella raccolta differenziata immediatamente seconda questione parlare di impianti e di discarica di servizio agli impianti che va verso appunto va incontro ad una città e a un territorio che lasciatemelo dire come territorio la differenziata la sta facendo la sta facendo anche bene siamo noi in questo momento gli ultimi diciamo nella classe e devo dire la verità lo siamo anche perché come ho spiegato più volte se voi immaginate che due anni fa scarsi mi insediavo e non avevo neanche più l'azienda dei rifiuti è evidente che dopo un anno siamo riusciti a metterla in sicurezza e a salvarla ora soltanto dal momento in cui l'abbiamo salvata possiamo pensare effettivamente di farle fare la raccolta differenziata perché qualsiasi azienda che viene a cambiare il sistema di raccolta lo deve fare tutti pensano che sia semplice ma lo deve fare acquistando mezzi acquistando mezzi anche importanti perché la raccolta differenziata ha un sistema completamente diverso per cui i mezzi che attualmente ha in dotazione AMIU non sono adatti servono chiaramente investimenti importanti di milioni di euro lasciate immaginare se immaginate più se quell'azienda di fatto inesistente quasi poteva mai fare un investimento che soltanto da oggi e dico da poco può iniziare a fare ecco la domanda che si fanno i cittadini è è stato detto più volte sta per partire la raccolta differenziata porta a porta in tutta la città partirà realmente a novembre siete in grado allora da questo punto di vista il comune quindi deve faccio giusto una premessa AMIU è una società per azioni ed è un gestore di fatto di un servizio quindi è equiparato ad un gestore privato sebbene di una società a partecipazione pubblica quindi di proprietà del al 100% del comune di Trani quindi come tale comunque deve avere un contratto quindi devono esserci i presupposti affinché il comune possa affidare in house il servizio i servizi di igiene urbana e sono tutti passaggi propedeutici che correttamente devono essere fatti devono essere portati a termine per poter dire AMIU ha un contratto di servizio mi auguro pluriennale così come è intendimento dell'amministrazione perché altrimenti con proroghe e contratti annuali qualunque società pubblica o privata che sia non avrebbe diciamo neanche ovviamente neanche merito creditizio quindi non potrebbe neanche fare investimenti quindi sicuramente da questo punto di vista l'amministrazione si sta spendendo il comune si sta spendendo quindi per dare questo slancio all'AMIU che devo dire ha già consolidato un risultato positivo estremamente positivo nel 2016 portando un utile di esercizio questa è un'anteprima perché il bilancio è stato depositato siamo in procinto di già convocata l'assemblea quindi in procinto di arrivare all'approvazione del bilancio stiamo parlando di un bilancio che chiude con un attivo di 850 mila euro 850 mila euro questo mi dà la possibilità di parlare della Tari ecco quindi quindi 850 mila euro sia ben chiaro che derivano ovviamente un utile di esercizio che deriva anche molto dal recupero dei crediti da un'attenta gestione anche per quanto riguarda delle sopravvenienze quindi parliamo anche di interessi importanti maturati su crediti che in quanto amministratore dell'azienda ho preteso dai nostri diciamo debitori che erano tutti gli altri comuni che venivano a scaricare a Tari non solo comuni soggetti più in generale dei soggetti quindi come dire abbiamo fatto delle lavorato bene una tra tutte un'azienda pubblica non so quante aziende pubbliche abbiano il coraggio la forza alle spalle di richiedere il di presentare stanze di fallimento nei confronti di altri soggetti per vedere riconosciuto il credito ecco ma tornando alla domanda qualora tutte queste queste situazioni preliminari fossero portate a complimento il primo novembre è una data credibile il primo novembre è una data credibile allora intanto il piano che è stato redatto dal CONAI in collaborazione con AMIU quindi adesso di prossima approvazione da parte del comune prevede una partenza ovviamente per zone sicuramente si può partire con la raccolta differenziata non è stessa su tutta la città una parte si fa già ma è una parte veramente residuale cambieranno anche i metodi quindi per diciamo per quella zona teniamo conto che in questa zona comunque si fa ad esempio la raccolta dell'umido sette giorni su sette quindi sono dei costi veramente spropositati per i cittadini quando normalmente l'umido viene raccolto con una frequenza di quattro giorni in settimana quindi ci sono questi fattori in novembre ritengo che possa essere una data credibile con diciamo l'impegno da parte di tutti quindi da parte dell'amministrazione per quanto riguarda e del per quanto riguarda l'approvazione di tutti gli atti e quindi la sottoscrizione di un contratto che è la punto di partenza per poter effettivamente programmare il personale c'è il personale c'è noi abbiamo in questo momento personale diciamo quasi sufficiente per poter partire quindi piccoli aggiustamenti con piccoli aggiustamenti per partire poi a regime sicuramente sarà necessario sarà necessario comunque dotarsi di altre risorse umane perfetto questo è importante invece apriamo il capitolo AMET perché mentre il capitolo AMET dicevamo è un problema contingente dovuto a tutta questa turbolenza che si è creata intorno alla discarica quindi discarica sì discarica no ma si tratta poi alla fine di decidere quale tipo di servizio dare il problema AMET è molto più complicato perché tra due anni ormai prima era un anno adesso è stato slittato il termine per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica al mercato libero quindi l'AMET sarà equiparato a un qualsiasi privato che va a chiedere a lei nell'acquisto della corrente elettrica e questo costituisce non i due terzi ma i nove decimi del bilancio di AMET e quindi già c'è un primo problema un secondo problema è quello della fatturazione perché diciamolo apertamente molti dei clienti AMET stanno andando via perché arrivano bollette due volte all'anno forse in alcuni casi anche meno di due volte all'anno con bollette da 500 600 euro che per una famiglia significa la tragedia anche se si può ricorrere alla ratizzazione ma è una ratizzazione che non risolve il problema perché nel frattempo si accumula il resto e poi ci stanno tutta una serie di servizi anche qui c'è spugli la darsena i parcometri altro che alla fine ingolfano senza dare prospettiva allora bisogna capire qual è l'idea dell'amministrazione comunale in questo caso del sindaco Bottaro innanzitutto parto dall'inizio io ho trovato una società alle pezze alle pezze sotto tutti gli aspetti soprattutto devo dire mal gestita per responsabilità di tutti quindi la responsabilità non può essere semplicemente della politica non può essere semplicemente di chi l'ha amministrato non può essere semplicemente di chi ci lavora dentro ma certamente è una società alle pezze soprattutto con una disorganizzazione è in ritardo su tutto basti vedere la qualità dei servizi io ricordo a tutti che oltre ad essere il socio sono anche il destinatario finale dei servizi che l'azienda rende ai cittadini ditemi se il servizio di trasporto pubblico può dirsi un servizio efficace efficiente anche anche semplicemente la prima parola servizio perfetto benissimo immaginate se la manutenzione dei corpi illuminanti può definirsi un servizio reso realmente in maniera efficace ed efficiente alla città immaginate se gli sbalzi di tensione i blackout che avvertivamo devo dire la verità si sta andando decisamente domenica abbiamo perso metà Juve-Roma dico soltanto per come è andata a finire la partita diciamo che non vi siete persi niente lasciamo stare purtroppo purtroppo bene quindi certamente c'è ancora un problema ma dovuto al fatto semplicemente che per tantissimi anni non si sono fatti investimenti in quella azienda non si sono acquistati i mezzi per il trasporto pubblico non si sono assunte probabilmente neanche le persone per poter fare un trasporto pensare a un trasporto molto più efficiente e che si facesse pagare realmente non si sono fatti investimenti sulla manutenzione quindi sulla rete ad esempio cittadina sui corpi illuminanti su tutto non si è fatto si è fatto poco ecco non voglio essere molto è per colpa di tutti questo è lo start up drammatico per chi a distanza di tre anni deve anche dire che quello su cui si regge quell'azienda e cioè il portafoglio dei clienti rischia anche di perderlo e quell'azienda si pogge oggi solo su quello su noi cittadini che paghiamo le bollette della luce e che quindi rispetto alle quali Amet si mantiene allora quando mi si dice che poi si passa dal mercato tutelato a quello libero per cui arriva Eni e mi dice che mi dà 100 euro come feedback d'ingresso e non mi fa pagare il cano della televisione è chiaro che per un sindaco diventa un dramma non ci dormi più la notte perché dice l'azienda crollerà con me ma non per colpa mia ma crollerà con me spiegali tu al cittadino tutto quello che ho trovato è quello che sta succedendo nel mercato mondiale per cui che stiamo facendo ecco arriviamo a cosa vogliamo fare risanare l'azienda cercare soprattutto di cominciare a capire che cosa deve fare Amet perché Amet non è in condizioni di fare tutto ciò che oggi fa questo è un dato di fatto parcheggi darsena trasporto pubblico locale manutenzione dei corpi illuminanti distribuzione dell'energia elettrica vendita dell'energia elettrica decidiamo e decidiamo anche in fretta perché così l'azienda la chiudiamo è inutile continuare a dire a svento allo spettro il sindaco vuole svendere l'Amet il sindaco non vuole svendere l'Amet al contrario il sindaco la vuole salvare per salvarla o continuiamo se continuiamo così la facciamo morire non è che la svendiamo muore l'azienda e mi muore in mano allora io questa responsabilità non me la voglio prendere piuttosto sono pronto a prendere decisioni forti di dire Amet farà questo più questo e basta per fare questo dobbiamo trovare probabilmente un partner privato col quale farlo insieme che ci fa assolutamente rilanciare l'azienda perché abbiamo un dovere partner privato cosa dovrebbe fare ma secondo me ad esempio il partner privato ci deve aiutare nel mercato dell'energia a comprarla a un prezzo sicuramente più conveniente in modo tale che noi la possiamo vendere a un prezzo più conveniente e quindi fronteggiamo il mercato tutelato che non significa questo svendere l'azienda al contrario trovarci un partner scegliercelo come piace a noi che di fatto faccia salvaguardi il core business dell'azienda assolutamente sì ma che ci rinforzi quindi ci dia quello che oggi ci manca e cioè ha una forza chiaramente sul mercato nell'acquisto dell'energia b anche quella diciamo così quella come devo dire quel management che oggi noi non abbiamo perché non è che con l'amministratore che si cambia un'azienda sotto l'amministratore c'è una piramide intera che oggi noi non abbiamo perché nel tempo sono andati via chiaramente anche gli stessi dirigenti perché nel tempo sta cambiando è una società che ha bisogno di rimodernarsi di avere anche maggiore personale perché diciamo ce l'ho anche questo è un altro problema c'è poca gente quindi ci serve gente preparata e dichiaro che non abbiamo i tempi della pubblica amministrazione perché è una società pubblica quindi concorsi gare siamo morti ci serve fondamentalmente un management che ci dia una mano senza per questo facendo addirittura crescere quello che noi oggi abbiamo formandolo quello che noi oggi abbiamo rinforzandoci quindi il contrario questo è un rilancio assolutamente dell'azienda che è quello verso cui pensiamo e su questo io sono aperto a tutto anche a mantenere il trasporto pubblico ad esempio però è evidente che anche sul trasporto pubblico bisogna acquistare i mezzi velocemente bisogna acquistare non le circolari da 200 persone bisogna acquistare mezzi piccoli che vadano in giro per la città e vadano in giro portando i turisti alla cattedrale piuttosto che alla sinagoga ebraica quindi mezzi piccoli è importante che ripensare completamente i percorsi anche che oggi non posso fare perché con i mezzi di Amet non riesco neanche a far passare la circolare dal lungomare perché è un problema anche sul lungomare quindi non porto neanche la gente al mare cioè siamo veramente non all'anno zero di meno bene allora se lo ripensiamo tutto questo velocemente io sono d'accordo anche a continuare con Amet sul trasporto pubblico locale ci mancherebbe anzi sarei la persona più felice ma o ci facciamo aiutare da qualcuno oppure è arrivato il momento di darci una mossa e concentrare le risorse facciamo il trasporto pubblico bene allora non possiamo fare anche i parcheggi la darsena perché stiamo disperdendo risorse umane innanzitutto e economiche per fare troppe cose che non riusciamo a fare perché non abbiamo le risorse per farle e allora lei diceva prima che in questo momento è un cantiere aperto perché si sta progettando il futuro esatto qual è l'indicazione che suggerirà all'amministrazione comunale per dire questa è la via di fuga di Amet allora questo è un passaggio che vorrei precisare e sottolineare cioè c'è un dibattito aperto tra me e il sindaco in qualità di socio unico perché avete sentito benissimo qual è la sua opinione bene la sfida dell'attuale management di Amet è proprio quella di cercare di fare progettazione per cambiare quello che potrebbe sembrare un destino già scritto e mi spiego per quanto riguarda la necessità di entrare sul mercato libero fortunatamente non più a maggio di quest'anno ma a maggio dell'anno prossimo c'è necessità indubbiamente di trovare un partner per la vendita che oggi sinceramente pensare che Amet possa andare nel mercato libero a contrastare i colossi di Enel per dire Enel ma ci sono altri diciamo colossi che mirano diciamo a conquistare la bandierina di Trani è fuori discussione cioè c'è necessità di ecco ma senza fare il numero perché ovviamente è impossibile ma ci può fare un identikit di chi potrebbe essere questo soggetto ma guarda io penso che in questo momento sia prematuro fare l'identikit in questo momento noi dobbiamo confrontarci con il socio unico con il consiglio comunale per cercare di capire quali devono essere le prospettive di Amet noi dobbiamo cercare di fare questa fase di progettazione che adesso possiamo fare più tranquillamente prima dicevi il fatto della fatturazione ti posso come ha dato lo scoop l'amico Alessandro sull'utile io ti posso dare lo scoop che praticamente sono già uscite le fatture dei clienti mensili e probabilmente i primi giorni della prossima settimana usciranno le fatture del bimestrale fatte con nuovo software aziendale che è praticamente un cambio ecco questo è molto importante spieghiamo bene ai cittadini avete cambiato un paio di anni fa due tre anni fa tutti i lettori tutti i contatori in quasi tutti gli appartamenti ormai sono rimaste soltanto poche residualità però questo avrebbe consentito di fare la telelettura cosa che però non è mai stata fatta non è mai stata fatta perché mi dicono perché io mi dicono che c'era un contrasto tra il vecchio sistema diciamo operativo di Amet e il sistema di lettura del contatore questo è stato risolto questo è stato risolto noi mi dicevano ieri proprio nel pomeriggio di ieri che attualmente leggiamo il 90% delle utenze con nei prossimi giorni con l'installazione di nuovi concentratori arriveremo anche a una percentuale maggiore perché noi abbiamo la necessità entro il giorno 5 del mese successivo di trasmettere le letture all'autorità dell'energia e anche a tutti gli altri soggetti cosa che non ha Amet non ha mai fatto cosa che non ha mai fatto in questo creano una svolta epocale ma viene da ridere perché è un obbligo di legge rispetto al quale sono stati sanzionati negli anni io non voglio immaginare quante sanzioni Amet ha dovuto pagare negli anni per questi ritardi bene ecco quello che dicevo prima lavorare su mettere in sicurezza un'azienda mettere in sicurezza un'azienda non significa stare lì a ragionare sui conti significa anche evitare queste inefficienze che hanno un costo sull'azienda e su noi cittadini quindi perché l'azienda è la nostra quindi il problema è proprio questo e questo finalmente lo stiamo risolvendo dopo tantissima fatica che abbiamo fatto in questi diciamo questo anno e mezzo però ecco io sono contento che finalmente arrivino i primi risultati che sono risultati importanti che già ci fanno pensare quindi ci fanno immaginare a un futuro di AMET ancora esistente stavo dicendo quindi questi contatori adesso potranno essere letti direttamente in automatismo sì 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 adesso vengono letti e il nuovo sistema trasmette praticamente tutte le informazioni che siamo tenuti per legge a trasmettere all'autorità dell'energia e quindi potremmo addirittura avere non delle sanzioni ma delle premialità perché l'autorità per l'energia come sanziona in caso di inefficienza ci sono delle premialità che vengono effettuate qualora l'utente sia preciso e puntuale altro capitolo drammatico prima di passare poi alla fase progettuale è quello relativo ai crediti non riscossi da parte di utenti c'è una forza politica trani a capo che denuncia una serie infinita di crediti non riscossi da AMET addirittura si parla di crediti selettivi cioè Tizio paga Caio non paga cosa possiamo rispondere allora su questa cosa su questo argomento l'attuale consiglio di amministrazione ha usato diciamo una mano pesante dobbiamo fare una premessa anche in questo il nuovo sistema informatico ci viene incontro perché togliendo ogni discrezionalità umana dopo due bollette alla seconda bollette in evasa parte in automatico un abbassamento no parte in automatico una raccomandata diciamo di avviso e dopo i 15 giorni di mura che vengono praticamente concessi c'è l'abbassamento della tensione dopodiché se non viene sanata la posizione l'automatico diciamo distacco della fornitura e questo entrerà in vigore da quando? questo è già in vigore adesso al momento stiamo fatturando quindi praticamente è già in vigore sui crediti invece che noi abbiamo trovato il consiglio di amministrazione ha praticamente posto delle regole una cifra anche importante ma adesso non lo ricordo sì ma la cifra è artefatta perché quella denuncia che è stata fatta comprendeva due fatturazioni eseguite nel breve lasso di tempo diciamo e quindi praticamente non è bravissimo perché non è che io oggi fatturo e domani incasso devo dare e quindi se io faccio due fatturazioni nel giro di un mese è chiaro che l'importo dei crediti mi viene deteriorato da questa praticamente flusso che non è ancora arrivato in azienda però dicevo noi abbiamo posto delle regole abbiamo posto una griglia di cose a cui l'ufficio commerciale si attiene quindi c'è la possibilità per l'utente di rateizzare ma a determinate condizioni e per tutti cioè non esistono più posizioni come paventavi prima di favore di favore tornando invece alla progettazione ecco come immagina l'AMET del futuro cioè sicuramente un partner per acquistare energia elettrica a prezzi competitivi ma poi io l'AMET del futuro la immagino con con questi con questi diciamo servizi che noi facciamo oggi però fatti nettamente come diceva prima il sindaco in maniera diversa le faccio le faccio un caso parcometri la gestione dei parcheggi in città delle famose strisce blu è affidata ad AMET che però è diventata una cosa insostenibile perché noi abbiamo decine di segnalazioni a parte il fatto che io sia sono di Trani quindi conosco la situazione ma ci arrivano quotidianamente denunce di persone che sono andate al bar hanno chiesto il grattino non l'hanno trovato dovevano sbrigare delle commissioni urgenti che si sono allontanati adesso con i nuovi vigili che arrivano che finalmente ci sono in città arriva anche la sanzione ecco come fare ad ovviare possibile che Trani non riesca ad avere i parcometri quelli per comprare automaticamente che stanno agli angoli delle strade domanda allora domanda allora ti dico subito la richiesta di grattino è aumentata nel momento in cui si è sparsa la voce che se non metti il grattino vieni sanzionato ecco che diciamo è già un vantaggio e questo è già un vantaggio e noi ce ne siamo accorti dalle richieste che le rivendite ci fanno di rifornimento delle schedine perché è chiaro che se io vendo dieci grattini in mezz'ora e prima le vendiamo ma è normale prima avevamo sei vigili sette vigili quindi era impossibile a questo si è aggiunto poi una modalità di controllo diversa e rettificata rispetto a diciamo a quella passata noi abbiamo dei report che ci vengono forniti dal servizio che ci portano nei primi mesi del 2017 un notevole aumento di incassi da questo punto di vista dicevo però noi abbiamo fatto non un passo due passi avanti venendo in macchina con il sindaco gli leggevo qualcosa che è uscito ieri sul sito dell'Apple su un gestore dove praticamente stavamo ridendo in macchina diceva che finalmente potremmo fare a meno dei parcometri e delle monetine perché quello è il futuro noi questa cosa l'abbiamo fortemente voluta e programmata probabilmente per fine mese partiremo abbiamo avuto la fortuna che alla nostra manifestazione di interesse hanno partecipato sette società le più grosse e le più diffuse sul territorio nazionale non e quindi ci sarà quest'altra modalità di poter pagare diciamo la sosta nell'attività di progettazione non è escluso che noi possiamo possiamo o in un futuro diciamo possiamo ipotizzare il parcometro ma questo deriva da un discorso che noi faremo piano del traffico vedremo come 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 si risponderà a questa faccenda delle app su cui noi confidiamo molto perché bene o male il futuro è quello adesso si può pagare con il cellulare anche la spesa si può pagare tutto quindi a parte che per l'utente c'è la possibilità di pagare il tempo reale ci sono ulteriori vantaggi che però ci sono fasce di popolazione che però ancora con l'uso del cellulare non è che sia proprio l'ideale sì ma c'è il grattino comunque non devo dire appunto che il il in questo senso l'applicazione ha un grosso vantaggio anche rispetto ai stessi parcometri e cioè dà la possibilità in tempo reale di aumentare ad esempio il numero l'orario pagando nel momento in cui ci si accorge ci si accorge che sta per scadere per cui diventa veramente una grandissima comodità e debbo dire con grande amarezza questo lo si poteva fare già da parecchio tempo a prescindere dalle gare sui parcometri a un certo punto quello che ho potuto respirare in Amet è che il vero problema fosse la gara sui parcometri bisognava fare per forza questa gara con lasciatemi dire rispetto a quello che ho trovato venendo a fare il sindaco a Trani anche un po' di attenzione su questa voglia di fare per forza queste gare in tutte le aziende per cui piuttosto che pensare a fare le gare sui parcometri avrei preferito che ognuno pensasse piuttosto a gestire un servizio nella maniera migliore come? semplice pensando ad esempio ad aumentare il numero degli ausiliari della sosta concedendo loro la facoltà di vendere finalmente i grattini utilizzando un maggior numero di ricevitorie bar e locali per la vendita e in ultimo e non per ultimo in ordine di importanza ma per primo utilizzando le applicazioni cosa che devo dire questo consiglio di amministrazione sta facendo per cui ritengo che i primi risultati li cominceremo ad avere che stanno già ottenendo con i dati dati alla mano se ne sono convinto ma ne otterranno soprattutto con le applicazioni anche perché oramai si va verso assolutamente quella direzione le smart city di cui tanto si parla non sono altro che questo una città intelligente dove con il wifi cittadino sul quale stiamo anche lavorando e rilanciando l'azienda anche in quel settore si può sicuramente attraverso il telefono fare tutto velocemente il capitolo della darsena quasi tutte le darsene pugliesi sono inutile perché la diportistica nautica sta vivendo una fase di boom la metà dei trani non dico che ci perda ma quasi la questione darsena dipende molto dal costo del personale che noi abbiamo ereditato da questo servizio devo dire che in questi giorni con ma anche dal fatto che le tariffe sarebbero fuori mercato e tutti preferiscono altri lidi o sbaglio beh vabbè sulle tariffe è stata fatta un'operazione di ritocco stavo dicendo che in questi giorni con il comune stiamo analizzando e valutando quelli che potrebbero essere i costi di rivistazione del servizio alla luce delle attività che necessariamente vanno fatte sia per quanto riguarda il personale sia per quanto riguarda le strutture quello il progetto comunale è dovuto al fatto che non sono stati fatti investimenti tutti questi anni sulla nostra rarsena quella era quella è rimasta con gli stessi pontili con gli stessi servizi oramai fatiscenti perché chiaramente in tanti anni non sono stati spesi non sono stati investiti i soldi che si guadagnavano in passato nelle strutture ma venivano utilizzati per i bilanci comunali questa è la realtà amarissima ma è la realtà abbiamo lavorato sulle tariffe infatti sono aumentati i numeri dei posti in barca però chiaramente è il cane che si morde la coda sono diminuiti gli incassi perché chiaramente diminuendo le tariffe abbiamo reso sicuramente molto più concorrenziale anche rispetto alle altre città nuovamente il servizio però è evidente che diminuiscono gli incassi l'idea a monte è stata sbagliata lasciatemelo dire non si poteva affidare questo servizio ad Amet primo perché Amet non l'aveva mai fatto in vita sua quindi non aveva il know-how per poterlo fare ha assunto sì ma persone che alla fine hanno un costo rilevante per Amet perché è un'azienda pubblica soprattutto non avevano le competenze specifiche il tutto su pontili e su strutture fatiscenti è stata la ricetta per il disastro Sindaco siamo in chiusura abbiamo anche superato il tempo che c'era concesso e anche la sua disponibilità naturalmente ecco ma ce la farà a tranne salvare le due aziende e garantire loro un futuro? Assolutamente ce la dobbiamo fare assolutamente non dobbiamo avere paura però di scegliere questo è importante se il Consiglio Comunale avrà paura di scegliere l'avremo fatta morire se al contrario il Consiglio Comunale si assumerà delle scelte che potranno sembrare anche parzialmente dolorose ma che invece significa la salvezza delle aziende allora sì è il problema di questa città che deve imparare a scegliere a fare delle scelte perché in tutti questi anni abbiamo semplicemente scelto di non scegliere e la situazione in cui ci troviamo è assolutamente emblematica e allora io vi ringrazio di cuore perché ripeto per la prima volta hanno accettato di partecipare ad una trasmissione televisiva insieme per discutere di questi temi che come avrete potuto notare sono particolarmente importanti perché riguardano il futuro intero della città che si è specchiata per decenni nelle due aziende municipalizzate ex municipalizzate e vorrebbe continuare a farlo ringrazio davvero di cuore Antonio Mazzilli Presidente del Consiglio d'Amministrazione di AMET SPA grazie per essere stato con noi ringrazio l'ingegnere Alessandro Guadagnolo amministratore unico dell'AMIU SPA di Trani ringrazio il sindaco di Trani Medeo Bottaro per la disponibilità mostrata anche questa sera l'appuntamento per tutti come sempre è la prossima settimana stessa ora stessa rete grazie buonasera grazie